Come diceva Luis, o come ha detto Camilo, noi siamo una squadra che cerca per il sviluppo. Io l'ho fatto tantissimi anni fa con giocatori giovani, anche con giocatori della prima squadra, che adesso hanno andato via a un altro club, o giocatori come Liseo, Ivisi, Nicolo, che giocano la prima squadra. Questa situazione adesso cambia un po' perché sono il capo allenatore e dobbiamo vincere la partita anche. Penso, e questo è secondo me, che puoi fare le due cose insieme, che sviluppare non è una cosa diversa da vincere la domenica. Alla fine noi dobbiamo vincere con questi giocatori tutti le domenica e dobbiamo continuare il sviluppo del progetto Varese, che è il giocatore giovedì, e sono pronti per giocare in uno, due o tre anni. Questo è un po' il progetto, e questo è un po' lo che io intendo di cercare tutti i giorni con i giocatori professionisti, anche noi i giocatori di gioco. Grazie a tutti per prestare questo posto, ci vediamo la domenica a Brescia, e alla prossima, a Brescia. Grazie a tutti.